Amici della Virtus, ci siamo giovedì sera, ritornano le nostre amate Vuniere in Eurolega contro Valencia. E nel video di oggi, infatti, vorrei parlare non tanto solo di questa partita nello specifico, che mi aspetto di vincere francamente, perché il Valencia è vero, è a 13 vittorie, non è così lontano da noi, però comunque la Virtus, secondo me, ha modo e capacità di battere questo Valencia, però, con l'altro schermo sottomano, guardando le partite, allora, Real Madrid-Panatinaikos. Il Pana è sostanzialmente un'altra squadra che ha pari punti con noi, se non sbaglio, e quindi, siccome probabilmente a Madrid, insomma, ci possiamo aspettare che perde il Panatinaikos, Real Madrid ce lo puoi fare a suo favore di batterlo? Sì, ecco, vincere contro il Valencia ci dà un ulteriore boost su di loro, ma non solo. Altre partite, Fenerbahce-Basconia, ecco, già Fenerbahce-Basconia, con il Fener in casa, già la vedo più difficile, che possiamo approfittare eventualmente di un suo inciampo, però, mai dire mai, il Vasconia comunque è una squadra che non è così insulza, e potrebbe anche darci una piccola mano. Chi altro ci potrebbe dare noia? Il Monaco. Vediamo il Monaco, che gioca contro il Barcellona. Il Barcellona-Monaco, scontro diretto, che in realtà chi vince vince, se dovessimo battere il Valencia, non è che ci fa proprio schifo. Quindi, insomma, partita che, ripeto, mi aspetto, insomma, di vincere, mi aspetto che la Virtus tiri fuori veramente un coraggio da Leoni per portare a casa questa vittoria, che ci può essere davvero, davvero tanto, tanto utile. In nazionale i Virtussini hanno fatto bene, quindi magari anche questo è un sprint maggiore per loro, per dare il meglio. Poi, ragazzi, a me la Virtus manca. È un po' che con lo stop non li vedevamo giocare, quindi, insomma, anche solo per quello sarà una partita che mi vado a godere tantissimo. Adesso, sì, se andiamo a fare le pulci, la differenza a canestri, noi siamo a meno 18, loro a più 13, ma, insomma, adesso non è così tanto indicativo, secondo me. Comunque, partita sicuramente fondamentale, anche in virtù degli incroci delle altre squadre. Fatemi sapere, anche voi, cosa ne pensate. Riusciremo a vincere? Pensate che la Virtus ce la possa fare? In ogni caso, sempre Forza Virtus!